Musica Buongiorno, ben ritrovati per la consueta giornaliera Rassegna Stampa Siamo in diretta, sono le 7.45 Come tutte le mattine vi teniamo compagnia in questa fascia oraria per sfogliare insieme i giornali Guardiamo prima però l'almanaco del giorno e poi le previsioni del tempo Oggi è venerdì 7 marzo, Santa Felicità Martire Il sole è sorto alle 6.34 e tramonterà alle 18.04 E allora, capito il santo del giorno, guardiamo le previsioni del tempo per questo weekend e partiamo subito da oggi Il cielo è parzialmente nuvoloso con prevalenza di sereno lungo la fascia costiera e collinare Ugualmente anche nelle zone interne, basse possibilità di precipitazioni però più che altro sono verso l'interno Vediamo le previsioni per sabato Inizialmente nuvoloso nelle zone interne, nei settori centro-meridionali della regione Poco nuvoloso nel settore costiero, quindi il settore che ci riguarda L'interno è un po' peggio perché, insomma, vedete anche dalla cartina compare anche la neve intorno ai millimetri e i rovesci sono più nelle zone interne Vediamo domenica Domenica sostanzialmente anche dalle didascalie, vedete c'è poco da dire nessuna precipitazione, poco nuvoloso, con qualche addensamento nell'arco della giornata però molto lieve Vediamo le temperature Urbino 8 gradi Fano e Pesaro 7-11 gradi per oggi Vediamo invece quelle di domani Urbino 5-9 gradi Pesaro e Fano 7-12 gradi Quindi sostanzialmente, insomma, dovrebbe essere un tranquillo weekend maggiormente domenica Vediamo i giornali, cosa troviamo oggi Partiamo dal Corriere Adriatico di Pesaro Vediamo in centropagina Porto e Nuova Questura Le vere priorità Si insedia oggi l'osservatorio delle infrastrutture Scelta civica Punta l'interesse del ministro Lupi Che era già stato qui a Pesaro e sul porto Aveva già focalizzato le sue attenzioni Opere complementari al secondo casello Anche sono le sorvegliate speciali Da tenere in considerazione e da monitorare Vediamo poi In alto, in sorpreso a rubare, reagisce e ferisce un carabiniere Aveva in tasca 2600 euro Frutto di precedenti furti E sempre ai danni di bar e di sale giochi Questa è la cronaca Rimaniamo a Pesaro Ai seggi anche i sidicenni e gli immigrati Queste sono le primarie per il PD di Pesaro Del centro-sinistra Qual è il regolamento? Lo trovate qui nelle pagine del Corriere Oltre 12.000 schede elettorali Stampate per una previsione di voto Che uscilla tra le 8 e le 10.000 persone Però In centro-pagina Sono il nuovo perché sono libero Questa è la dichiarazione di Rito Briglia L'indipendente Quali sono le sue parole d'ordine Giovani, competenza Quindi insomma sicuramente buoni propositi C'è un'intervista sulle pagine del Corriere A questo candidato Cambiamo pagina Andiamo a Fano Sempre per il Corriere Anche qui la politica prevale An centro-pagina Adesso è guerra sul simbolo di Forza Italia Centro-destra e sostenitori di Carlona a Roma Per chiedere l'utilizzo della bandiera tricolore Vedete i due competitors Seri per il centro-sinistra E Carloni Che si è proposto per la candidatura a sindaco E in alto Strade dissestate 568 richieste di risarcimento Fino al 2012 In media non si superavano le 200 denunce fanesi La situazione evidentemente è insostenibile Quindi insomma c'è un risvolto economico Anche per il dissesto delle strade Incidenti Rotture di auto Pneumatici che se ne vanno Insomma A fare una brutta fine Se ci si passa sopra Quindi insomma un aspetto Anche economicamente brutto L'assessore Cucuzzo ha presentato il programma Che coinvolge le scuole Per l'8 marzo Eventi per riflettere sulla violenza contro le donne Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico La questione di Lucia Bellucci Che va in aula Cicolini sarà processato Con il rito abbreviato Mia figlia non tornerà più Questa è la dichiarazione giustamente della mamma di Lucia E poi appello finale Andiamo tutti a votare sì Questo è quanto riguarda Marotta E poi per la questione dell'unificazione Oggi i seggi si attendono almeno 7 mila elettori Grande fibrillazione del comitato E poi la vicenda del comune di Mondolfo Renzo Savelli di RC Spezza una lancia a favore degli assessori Rossi Porto e Seri E dice Cavallo è stato scandaloso Chi è Cavallo? Pietro Cavallo è il sindaco di Mondolfo Invece di dare in escandescenza Dice Renzo Savelli Prepari le sue contradduzioni Alle decisioni della giunta Andiamo sul resto del Carlino Quindi abbiamo visto l'8 marzo I risvolti di questa giornata Saltano all'occhio le questioni riguardanti Lucia Bellucci E anche Lucia Annibali Allora vediamo la vita di Lucia Bellucci Può valere solo 200 mila euro Perché salta fuori questa scifra? Perché praticamente i difensori Della famiglia Ciccolini Hanno detto che praticamente propongono questa cifra Come risarcimento Per dare delle Insomma per contrastare Per cercare di avere le attenuanti Nel processo Però insomma la madre Non ci sta Dice 200 mila euro È un'offese Insomma la memoria Della figlia Niente ergastolo Per l'assassino Se sarà processato Col rito Abbreviato Perché la condanna Viene ridotta Di un terzo Vedete nella foto La mamma Di Lucia Che stringe un'immagine Della figlia Il fratello Carlo Dice Un'offesa È davvero una cosa irrispettosa Vogliamo Una pena Esemplare Lucia Nibali Cavaliere della Repubblica L'abbiamo già detto altre volte E simbolo delle donne Sarà ospite Della Boldrini A Montecitorio E verrà insegnita Di questo Onorificenza Dello Stato Italiano Allora Si è tenuto Si è aperto Il congresso della CGL Ieri a Pesaro E Simona Ricci Si dice Sono urla Nel silenzio Della crisi Le nostre Perché i nostri appelli Sono stati Inascoltati Quindi la segretaria Denuncia questo aspetto Rivolge un appello Alle istituzioni Alle associazioni Perché la Questione È veramente Grave Quindi la CGL Punta il dito Contro l'immobilismo Di questo Territorio Ieri in apertura Di congresso Ancora Cronaca Per quanto riguarda Pesaro La questione Dei liquami Riversati Nello stagno I liquami Scaricati Nel tavolo Il sindaco Non c'è Autorizzazione Per sversamento In questa zona Che cosa Avveniva Allora Era praticamente Un riversaggio Abusivo Che veniva Fatto Addirittura Lunedì Pioveva Passavano Ancora Questi camion A riversare Questi liquami Sono queste Le pratiche Che stanno Devastando Il mercato Del biogas Vedete qui Danilo Mancini Che mostra Le tracce Dei pneumatici Che è Danilo Mancini È un agricoltore Che ha un'azienda A 200 metri Da questa zona Così deturpata Da questi liquami Che indica Appunto Le zone Degli Sversamenti La procura Apre un'inchiesta Per inquinamento Ambientale I viaggi Duravano Da giorni Le tracce Dei camion Sono evidenti Abbiamo appunto Visto qui Proprio Tracciare Il segno Del pneumatico Fano Per quanto riguarda Il resto Del carlino Si lancia Un sondaggio Online Raccogliendo Una proposta Dell'assessore Michele Silvestri E il carlino Lancia un Sondaggio Online L'idea Per la soluzione Arriva appunto Dalla proposta Lanciata Da Silvestri E qui Elencati Tutte le cifre A fianco Ai candidati Che ci sono tutti Mico Carloni Giancarlo Danna Maria Antonna Cucuzza Davide Del Vecchio E Daniele Sanchioni Centropagina Uniti per Fano Ceroni Mette fine Alla ricreazione Diciamo così Usando questo Eoffemismo Remigio Ceroni Il presidente Del comitato regionale Di Forza Italia Dice Entro due giorni Decideremo E quindi Fine dei giochi Caso Cucuzza Potrebbe essere Una scelta naturale Per dare continuità All'azione Della giunta Ancora Su Fano Festa delle donne Festa delle donne Un modo sano E sicuramente Più giusto Di rendere onore All'altra parte Della luna La festa delle donne Tante manifestazioni In programma Nella città Maria Antonia Cucuzza Dice La festa Dell'8 marzo È una giornata In cui ricordare Le conquiste Sociali E politiche Delle donne Quindi un momento Non per Fargli la festa Ma per festeggiare Quindi tante iniziative Sono state organizzate Dalle pari opportunità E allora Sesso debole Alla riscossa Speriamo Sono stati denunciati 8 compagni Per maltrattamenti Questi sono i dati Del centro Di documentazione Di Fano Quindi insomma C'è Molta attenzione Su questo aspetto Ancora Fano Valcesano Pagine del resto Del Carlino Andiamo alla questione Di Marotta Unita Benefici economici Per tutti Questo è quello Che dice il comitato I servizi Costeranno Meno rispetto A Fano La campagna elettorale Si conclude Stasera Con una festa Al Garden Vedete qui I componenti Del comitato Cambiamo testata Andiamo Sul messaggero Pesaro Messaggero Pesaro Che Anche qui La politica In grossa evidenza Maxi alleanza Contro il PD Prove d'intesa Per le liste civiche D'opposizione Ipotesi Di un candidato Unico E poi invece Il centro-sinistra Domenica Aperti I seggi Dalle 8 Alle 20 Per le primarie Il meteorologo Che cosa dice Festa della donna Con pioggia Quindi sentenzia Massimiliano Fazzini Che la festa della donna Sarà una festa Bagnata Ma diciamo Festa bagnata Festa fortunata E poi La provincia In ansia Il personale Perché è chiesto Un incontro Con il presidente Ricci Sul contratto Riforma E sedi Del lavoro Ancora Il messaggero Pesaro Focalizza L'attenzione Sulla politica Luca Pieri Il candidato A sindaco Dice Con me Si può battere L'apparato Del PD E qui Tutte le sue Priorità In caso Di vincita E domenica Si vota Appunto Dalle 8 Alle 20 Stasera Ultimo confronto Tra i candidati Apriamo la pagina Del messaggero Del messaggero Di Fano Primarie Per sbloccare L'impasse Del centrodestra Questa è la proposta Vedete i due Outsider Davide Del Vecchio Marina Antona Cucuzza Sanchioni Sarebbe pronto A fare Un passo Indietro In questo In questo Caso E poi Massimo Seri Chiede Ad Aguzzi Di assumersi Le sue Responsabilità D'accordo Anche Il segretario Del PD Marcheggiani Il suo disegno Politico È fallito Questo Il suo pensiero Il centro-sinistra Appunto Va all'attacco E aspica addirittura Il commissariamento Del comune Di Fano E poi Chiudiamo Con una notizia Che riguarda I nostri ragazzi Un filosofo Il docente Dell'Università Di Urbino Paolo Ercolani Incontrerà Oggi Alle 18 Nell'aula magna Dell'istituto Volta Gli studenti Tema La rete I pregi E i difetti Gli inganni E tutto quello Che riguarda I rapporti Con questo Mondo Quindi insomma Ragazzi Per conoscere A fondo Uno degli strumenti Da voi più Utilizzati Andate a sentire Qual è la versione Di questo Filosofo Dell'Università Di Urbino Per conoscere Tutti gli aspetti Del mondo Che voi praticate Bene Con quest'ultima notizia Io mi fermo qui Grazie per la vostra attenzione La rassegna stampa Torna domani mattina Alle 7.45 Buona giornata a tutti Buona giornata a tutti